A partire dal 2018 l'associazione Agata Volontari contro il Cancro, di cui sono presidente, accompagna gratuitamente e con amore i malati oncologici in difficoltà ad effettuare i trattamenti chemioterapici nelle strutture oncologiche di riferimento, in special modo presso l'IRC Scrob di Rio Nero in Vulture, moltissime purtroppo le donne operate di tumore al seno. Come in Italia ci è stata accanto sin da subito, consentendoci di pagare le spese di carburante, realizzando così il sogno di poter accompagnare i malati. E però nello scorso mese di febbraio la pandemia ha purtroppo fermato il nostro pulmino. Questo perché non eravamo in grado di dotare i nostri volontari dei dispositivi, ma anche perché le strutture sanitarie hanno limitato l'accesso dei volontari all'interno dei reparti di degenza, ma purtroppo anche all'interno dei hospital oncologici. Cosa fare? Per noi era indispensabile trovare una soluzione. Impensabile abbandonare i nostri ammalati. E la soluzione l'abbiamo trovata, affidandoci ad una navetta privata che trasporta naturalmente, in maniera completamente gratuita, gli ammalati, così come facevamo noi e come presto torneremo a fare. E però era necessario far fronte a questa nuova spesa. Nuovamente ci siamo rivolti a Susan Comen, chiedendo di poter riconoscere questa spesa, nella quota parte del progetto Agatha in viaggio 2. E Susan Comen, anche questa volta, ha detto sì. Ci piace ricordare sempre le parole che il Santo Padre ha pronunciato a Pasqua. Nessuno si salva da solo. È proprio vero. E questa volta più che mai era necessario fare squadra. E così Agatha ha messo in campo una mini lotteria per finanziare questo pulmino. Susan Comen ha detto sì per la sua quota parte. E poi ci siamo rivolti alle amministrazioni comunali. Due hanno risposto di sì. Il comune di Pisticci e il comune di Bernalda. È così il servizio Agatha di trasporto pazienti oncologici non si è mai, mai interrotto. Grazie alla nostra mini lotteria e grazie all'aiuto straordinario di Comen Italia, ha viaggiato due giorni a settimana, il martedì e giovedì. In questo momento, grazie alla partnership con le amministrazioni comunali, viaggia una sola volta a settimana, il martedì. Ma presto, come in Italia, tornerà in campo. E presto, ricominceremo a viaggiare due volte a settimana, nella speranza che questa pandemia termini presto e che il pulmino di Agatha, con i nostri volontari, ricomincino la loro piena, piena attività. Nessuno si salva da solo. Siamo una squadra. Andiamo avanti. Insieme. Grazie a tutti.